E' stata la nostra prima scelta, la prima cosa che abbiamo quando il nostro allenatore Caprara ha avuto degli interessi più importanti in Turchia, la prima nostra scelta è stata quella di individuare l'allenatore giusto, perché è la chiave di volta di una squadra. Siamo sicuri che è un allenatore di grossa esperienza, allenato nazionali, allenato club di alto livello, sa cosa vuol dire una squadra competente a livello europeo e qui sicuramente saprà metterci tutta la passione, la voglia e la sua esperienza a disposizione di questo gruppo portandoci ai risultati che ci siamo sbassati.